La settima edizione di questo premio assume un particolare valore. Lo assume perché siamo all'uscita della pandemia e questi ultimi quattro anni è un premio, un riconoscimento che viene dato a tutti i donatori che hanno raggiunto almeno 100 donazioni negli ultimi quattro anni. Sabato, questo sabato 12 novembre, alle ore 10, saranno presenti tutti i donatori, quindi con oltre 100 donazioni, quindi all'interno del loro territorio il presidente dell'Avis comunale ma anche il sindaco che insieme premieranno con questa edizione, questo restyling del premio che è stato fatto che vuole raccontare non solo il simbolo associativo ma anche questa G che diventa una goccia e ringrazia, quindi questo grazie, che vuole così sigillare nel tempo questa grande capacità di essere a sostegno della vita, di essere a sostegno della solidarietà umana, che oggi sempre di più è difficile. Difficile perché? Perché i nostri centri trasfusionali sono messi in grande difficoltà. Mancano i medici, però la grande carenza di medici che nella nostra provincia si vive in maniera più drammatica rispetto alle altre province della regione, avere due medici trasfusionisti per ognuno dei trasfusionali della nostra provincia di certo non ci rasserena perché questo mette in difficoltà tutte le uscite sul territorio ma oltretutto mette in difficoltà anche quelli che sono tutti i servizi collegati all'ospedale con i quali effettivamente serve il sangue e non solo il sangue ma anche tutto il plasma e i plasmoderivati, cioè farmaci salvavita che vengono fatti con il plasma che viene donato, il nostro, quello sicuro, quello che le marche danno come seconda e migliore qualità in tutta Italia. È un premio. Vuole ricordare e sottolineare come questo momento, questo periodo di pandemia abbia sicuramente coinvolto e segnato insomma tutti noi, però le donazioni sono sempre rimaste piene, sono sempre rimaste con un grande spirito di solidarietà perché all'interno di tuile che sono tutte le avis del territorio questi dati sono sempre stati grossomodo confermati. Ci sono state solo delle leggere flessioni in qualche avis però possiamo dire che in questo periodo la nostra provincia ha avuto solo una flessione di quasi circa 500 donazioni, che può sembrare tanto ma se pensiamo alle 37 comunali coinvolti vediamo che in realtà il dato non è così spaventoso.